Sempre fatto vuol dire niente, nel senso che se è anche fatto è diverso. Io a memoria ricordo tantissime volte in cui abbiamo votato gli ordini dei giorni, discusso gli ordini dei giorni e poi votato separatamente. Quindi perché non, come dire, non ci fa... Se lei ci vuole proporre di fare un'unica dichiarazione di voto, ce lo propone. Però non è che ci dice che sia sempre fatto. Ho una memoria, ormai un po' anche io, diciamo, vaccino. Qualcosa mi ricordo.